Debutta felicemente e con successo al Teatro Brancati di Catania lo spettacolo Filippo Mancuso e Don Lollò che sono stati scritti appositamente per Tuccio Musumeci e Pippo Pattavina da due autori importanti Andrea Camilleri e Giuseppe Di Pasquale che è anche regista e che sarà in scena fino all'11 novembre. Dobbiamo dire che è una commedia brillante, deliziosa, che questa sera ha riscosso tantissimo successo e lunghissimi applausi e qui con me ho alcuni attori che questa sera hanno allietato la sala. Allora abbiamo, cominciamo. Margherita Mignè e Minunziatina nello spettacolo. Anche per noi è una novità assoluta perché non è stato mai fatto, quindi un inedito e quindi con più divertimento affrontiamo spettacoli nuovi che è quello che insomma noi ci auguriamo sempre perché invece di fare sempre i stessi testi preferiamo questo insomma e quindi sono contenta di aver partecipato a questo spettacolo. Io sono Lorenza Denaro, sono Lillina nello spettacolo. Che dire, insomma, il privilegio di affiancare questi mostri sacri non solo chiaramente signori Musumeci e Pippo Pattavina ma anche tutti i colleghi è un privilegio da non poco, quindi sono felicissima anch'io di far parte di questa avventura. Il pre? Riccardo Meretarci o meglio padre imbornone. No, vabbè, è un'avventura che come hanno già detto i miei colleghi che ci fa divertire, che fa trascorrere soprattutto due ore di risate con il pubblico. Una novità, come diceva Margherita, e quindi sempre bene accette le novità perché ogni tanto insomma ci vogliono in teatro le novità. Quindi grande divertimento fino all'11 di novembre, non potete mancare perché riderete a crepapelle. Lo posso confermare, vi aspettiamo. Grazie. Come dicevamo ha debuttato questa sera felicemente lo spettacolo Filippo Mancuso e Don Lollò. un testo originale, importante, e in scena due grandi mattatori. E allora, Battavina e Tuccio Musumeci. Qui abbiamo l'onore di intervistarla. Perché nasce questo testo? Ma nasce perché sulla scia di un altro spettacolo che abbiamo fatto, che lo ha preceduto, che si chiamava La concessione del telefono, dove c'erano questi due personaggi che in un momento di questo spettacolo si incontravano. E succedeva praticamente la scena che avete visto nel secondo atto, quella dei pali, del filo e della fossa. Praticamente una scena che all'origine doveva durare 3-4 minuti, noi l'abbiamo fatta diventare 25 minuti. Quindi Camilleri, sul ricordo del successo che ebbe questa scena, ha pensato, e siamo a Giuseppe Di Pasquale, espressamente di scrivere una commedia per noi due. ed è spuntato questo sequel in un certo senso di quello spettacolo che era la concessione del telefono. È stato applaudito lungamente, come sempre, perché ci sono anche delle parti improvvisate. No, in teatro pochissime volte ci sono cose improvvisate, perché è tutto studiato e calibrato al millesimo. Certo, in questo genere di spettacolo ogni tanto capita qualche cosa di nuovo, ma normalmente anche negli spettacoli comici tutto quello che può sembrare improvvisato invece è frutto di studio e di metodo. Ma questa bella voce la coltiva? Sì, la coltivo nel senso che lei si riferisce a quando canto? Quando canta, anche quando parla in scena, perché non è facile, tiene un pubblico con la sua voce che affascina. Beh, ma è la mia, non la coltivo, non faccio esercizi, mucalizzi, non faccio niente. Questa è la uso. Una dote di natura. Sì, sì, sì. Allora, dove la vedremo prossimamente? Prossimamente sarò sempre qui sulle tavole di questo palcoscenico a marzo-aprile con le ultime lune di Furio a Bordone, che è un testo completamente agli antipodi di questo, dove là si vedrà un pattavina tragico. È uno spettacolo al quale tengo moltissimo e poi vado in scena da gennaio in poi con l'aria del continente. Quindi mi alterno fra il comico e il tragico. Quindi sarà bellissima. Allora, intanto fino all'11 novembre la possiamo ancora continuare a vedere, questo spettacolo. Sì, sì. E quindi cosa ancora possiamo dire ai nostri telespettatori, che qui abbiamo il grande mattatore in scena. Grazie, grazie. E venite a teatro, che abbiamo bisogno di pubblico. Il teatro ha bisogno di pubblico. Perché questo è un teatro importante, il Brancati, e siete voi anche importanti. Certo, certo, certo. Ma questo teatro ancora è tanto in crisi? È come, è molto in crisi. Si attraversano tempi bui, terribili. Ma noi facciamo di tutto per non farlo morire. Grazie ancora. Grazie a voi. Un bacio, arrivederci. Grazie.